Le principali difficoltà che avete riscontrato nelle prime operazioni? Il tempo ieri, il meteo. Adesso come si procede? La zona è particolarmente difficile da essere raggiunta? Si trova in una zona impervia, in una zona impervia del Gargano, molto impervia. Quindi va fatto il recupero, i vigili del fuoco apriranno il reddito e quindi si interverrà al recupero delle salme. Preparerà attendere di avere un quadro chiaro però prima? Certo, aspettiamo la commissione che viene, non so chi deve venire per fare i suoi dovuti accertamenti.